Io mi devo salvare, posso anche giurare dieci volte il play-out e se mi salto l'obiettivo è quello. Semplicemente io prima di retrocedere devo vivere. Pallone verticale per Dionisi, il tiro rete, ha raddoppiato Lascoli, contropiede straordinario, ancora lui. Dionisi in destro, a spiazzare Radonovic, terzo gol consecutivo per Federico Dionisi, avanti Lascoli. Lascoli arriva Dionisi, Lascoli passa dopo 21 minuti con il capitano Federico Dionisi. Sesta rete in campionato, pareggia Lascoli, 1-1. È regolare anche questo, ha pareggiato Lascoli, Federico Dionisi, che partita! In seguito dall'altro, Dionisi, guarda solo, gran giocata. Dionisi! Bucca Caprile per il 2-0 da Lascoli e probabilmente mette il lucchetto alla partita. Allora, Dionisi, qui l'errore da parte di Prezzi, Dionisi! E l'errore anche di Rousseau, è avanti Lascoli dopo 11 minuti. A parte Dionisi! Spiazzato! Francesco Bardi non esulta Dionisi e allora l'uomo più atteso segna al 95esimo il gol numero 100. Non è più un ragazzino, ma è ancora in grado di Dionisi. Che monta avanti l'Ascoli, 1-0. Grandissimo gol da calciante, è vero? È lui che inizia quest'articolo. A parte Dionisi, che apre il piatto, la mette sotto l'incrocio. 3-2 Ascoli! E 104 gol in Serie B! Ci sta una versione all'errore, vola Dionisi in aereo di rigore. Dionisi, Dionisi in reddito! 2-0 di Dionisi! Ascoli in vantaggio! Non è più un ragazzino, ma è ancora in grado di Dionisi di fare questo il giocato. E-G----G----! E-G----!